Si torna a giocare dopo lo stop per le festività. Il pallone torna a rotolare a distanza di oltre un mese. Torna anche il pubblico allo Zaccheria. Sugli spalti accorrono in più di 6.000. Gallo cerca il terzo successo di fila dopo le due vittorie esterne, una dietro l'altra, di Torre del Greco e Latina. Il Picerno prova a rifarsi dopo la sconfitta interna con la capolista Catanzaro che ha interrotto una serie utile che andava avanti da otto partite. Formazioni tipo al netto del mercato da una parte e dall'altra. Nel Foggia torna titolare di Pasquale che si riprende il comando della difesa. In panchina il neoacquisto Contec. Si comincia all'insegna del ricordo di Luca Vialli, minuto di raccoglimento per l'ex bomber. Il Foggia prova a partire subito forte al quinto serpentina di Schenetti che cade in area di rigore. Tutto regolare per il direttore di gara. Al settimo il Foggia però passa per alta, vede l'inserimento di Garattoni e lo serve. L'esterno del Foggia calcia con potenza e col suo destro trova il terzo gol di fila portando in vantaggio i rossoneri e liberando l'urlo di gioia dello Zaccheria. Il gol tuttavia toglie paradossalmente smalto. Ai rossoneri costretti a subire l'iniziativa della formazione di Longo che al trentatresimo ci prova con cuda dalla distanza, palla fuori dallo specchio. Al trentanovesimo il Picerno però pareggia. Schenetti perde palla nella propria tre quarti e sugli sviluppi dell'azione d'Angelo a trovare un euro-goal. Conclusione a giro e palla nel set dal vertice sinistro dell'area di rigore. Uno a uno è tutto da rifare. In avvio di riprese il Foggia prova a rendersi subito pericoloso con questa conclusione da fuori del solito Garattoni. Palla di poco sul fondo. Al cinquantanovesimo tiro cross di De Cristoforo. Nobile controlla senza grossi problemi. Gallo a quel punto manda dentro Jacoponi e Frigerio per Peralta e Schenetti. E al sessantanovesimo il Foggia torna in vantaggio. Costa è bravo a trovare un corridoio per Ogunzeie che batte Crespi in uscita e realizza il gol del nuovo sorpasso. Due a uno è gara che sembra incalanarsi sui giusti binari per i rossoneri. Anche perché un minuto più tardi il Foggia in contropiede può chiudere la partita. Ma Jacoponi servito da Ogunzeie col mancino spedisce abbondantemente fuori tutto solo. Gol mangiato, gol subito, minuto 73. Dettori batte un calcio di punizione dal limite. Nobile respinge ma sulla ribattuta guerra di testa mette dentro per il 2-2. Le emozioni tuttavia non finiscono all'ottantaseiesimo. Nuova palla gol per il Foggia ma il destro di Jacoponi dal limite finisce alto sulla traversa. Poi la beffa per i padroni di casa che si materializza all'ottantottesimo. Golfo servito in profondità prende il tempo all'incerta retroguardia di Gallo e in pallina nobile per il definitivo 2-3 che gela lo Zaccheria. Vince il Picerno mastica amaro il Foggia che frena dopo tre risultati utili di fila.